La freschezza acida. La freschezza acida non è una brutta cosa. La freschezza acida nel vino è importante e ci deve essere. Deve essere equilibrata, deve essere in armonia, deve essere comunque piacevole. Dipende sempre dal tipo di vino, eccetera, eccetera, eccetera. Dipende sempre da cosa stiamo bevendo. Quindi la freschezza acida può essere anche una freschezza acida quasi dissetante perché senti che è proprio piacevolissima ed è bene in equilibrio con tutto quello che è appunto l'armonia del vino stesso. Se immagina come un'orchestra, ogni strumento deve suonare sempre al giusto ritmo. Poi vabbè, ci sono le eccezioni, ci sono gli assoli. Quindi quando si parla di freschezza acida, prova a immaginare. Ad esempio, se vuoi, è anche banale ma comunque molto chiaro. Prendi un bicchiere d'acqua, spremi un mezzo limone, bevi, quella sensazione che hai è la freschezza acida. Come la riconosci? Perché abbiamo anche una sapidità. La freschezza acida la riconosci dopo che hai deglutito la tua acqua con il limone spremuto, la riconosci perché hai una salivazione, una salivazione sulla lingua. Facci caso, di mani fermo, lingua ferma, bocca ferma. Dopo che hai deglutito avrai questa salivazione continua, liquida. Questa è la freschezza acida. È così che tu col tuo corpo, perché comunque alla fine il nostro palato è un laboratorio di analisi sensoriale, se vogliamo. Adesso tre virgolette, se no qui scateniamo sempre gli haters. Però tu riconosci così la freschezza acida al palato. Come riconosci? La sapidità, il sale, lo riconosci perché al di là delle sensazioni che può essere sapida, salina, può avere queste sensazioni anche di puntura sul finale, insomma dopo dipende un po' anche lì dal vino, però hai una salivazione molto più solida, più ragrumata, noterai una salivazione più ragrumata in certe zone della lingua, ai lati. Il problema è quando devi riconoscere la freschezza acida, magari importante, e allo stesso tempo una sapidità, allo stesso tempo importante, addirittura una sapidità quasi salina. Quindi noterai che avrai queste due sensazioni che si muovono sulla tua lingua, così, con una salivazione un po' più sciolta, una salivazione invece più solida, più ragrumata, spero di essere stato chiaro.